Bentornati da Nicola di Disinformati all'ultima battaglia contro il boss dell'area della Pestienza, la seconda al di Naxtramas. Avremo contro Loateb, con il suo potere eroe che infligge tre danni all'eroe nemico. Andremo contro il Facehunter, in maniera tale da fare molto velocemente il maggior quantitativo possibile di danno. E pregheremo di non perdere. E abbiamo già perso. Guardi come bestia, sì. Quindi mi sa che userò questa. Grazie. Grazie. Ehm... Ci devo sperare. Che culo! Praticamente le spore forniscono otto danno ai miei servitori. Quindi buttare giù una spora significa buttare tanti danni. Ah, avrei voluto buttare questo prima, ma chi si intrega. Ok. In questo momento sono letale. E infatti... Ho vinto. Ho vinto. No, vogliono tutte le carte di Naxtramas. E quindi abbiamo ottenuto Sputafango, una delle carte più fastidiose di Naxtramas. E oltre a questa abbiamo anche ottenuto quel rompiscatole di Loateb. Quindi, da Nicola di Disinformati è tutto. Nei prossimi video affronteremo le restanti ali di Naxtramas. Partendo dall'Ara dei Combattenti, poi dall'Ara dei Costrutti e l'Antro del Gelo. Dove otterremo... Queste carte, quindi le spalle danzanti, che non sono male. Il Lo Scienziato Pazzo, che è una carta utilissima. Oltre alle due leggendari di Stallag e Taddius. No, Stallag e Fogen. E qui otterremo due epiche e il grandissimo Keltusan, che serve ovunque. Ovunque. Quindi, per ora è tutto. Ci vediamo al prossimo video.